I gazebo allestiti davanti ai locali di Corso Vittorio Emanuele di Barivecchia dovranno essere smontati, anzi qualcuno ha già cominciato a rimuoverli. Il braccio di ferro fra il comune e i commercianti alla fine si è risolto in favore dell'amministrazione. Le strutture, soprattutto quelle chiuse, non rispetterebbero né il regolamento comunale né le prescrizioni della soprintendenza e dunque non possono rimanere dove sono. È così già in un primo caso, nonostante sia in corso una battaglia a son di carte bollate, il titolare di uno dei locali di Corso Vittorio Emanuele, oggetto di un'intimazione da parte del comune, ha già provveduto a smantellare le vetrate. Tutti però dovranno adeguarsi, altri otto locali ha fatto sapere il portavoce Franco Spagnuolo, hanno già comunicato al comune che dal 23 gennaio cominceranno ad operare. Prima non è stato possibile perché le ditte incaricate per lo smontaggio non sono disponibili. Sullo sfondo però resta il malumore degli esercenti che si sentono danneggiati da un provvedimento ritenuto ingiusto. Noi come esercenti, quando abbiamo avuto l'incontro con il sindaco, abbiamo chiesto di uniformare tutti quanti una struttura che fosse uniforme e che fosse anche di decoro per la città. Non ci è stato concesso questa cosa qui. Ora, smontare i gazebi è un atto dovuto perché praticamente ce lo obbligano. Però devono anche rendersi conto che ci mettono in grosse difficoltà tutti quanti. Non è che possiamo dire che è una cosa che ci fa piacere. Del resto le strutture che loro vogliono che noi mettiamo ora rispetto all'esterno sono dei paraventi, senza piante, senza niente. Anche le piante a questo punto, non lo so, è la prima volta in vita mia. Io ho girato l'Italia, ho girato il mondo, però è la prima volta che sento dire che le piante deturpano un paesaggio. È uno spazio uguale per tutti, con una struttura uguale per tutti. Così è uniforme, allo stesso modo, senza creare nessun fastidio né al comune né dalla parte del cittadino che magari potrebbe potrestare per lo scarso spazio lasciato sui marciapiedi e quant'altro.